A che ora andate? A che ora venite domani? Domani sarà a quest'ora? Alle sei? Aspetta che ve lo dico subito, un minuto, ve lo dico subito. Oh, non ci pensate però domani, gli oditi la vacanza, Maria, Godi, tutto quanto, non ti preoccupate. Guarda che siamo all'inizio delle vacanze. No, guarda che poi gli toglieremo minimo, minimo vent'anni. Ah, allora, faccio due volte. Ti immagina, è già il fatto stesso, che superi la paura di cadere. Nel momento in cui tu metti i piedi per terra quando c'è piano, là ti carichi di autostima immediatamente. Ah, che stai la prima cosa, ce l'ho fatta. La prima cosa è di dire, ce l'ho fatta. E poi la seconda cosa è di, pensando, quando vedete che è un po' di dieci, noi siamo dentro ai raggi del sole, noi cosa si è tutta l'anno. Sì, gliene voglio fare una pazza. Ma voi per atterrare come si fa? Atterra qua vicino se puoi. Aspetta, no, no, veniamo noi, veniamo noi. Aspetta, vai. Sì, ma per atterrare come si fa? 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 Grazie.